Obiettivo farsi trovare pronti all'appuntamento con la stagione estiva ed anche garantire decoro alle spiagge della città. A Salerno sono partiti gli interventi di bonifica del litorale, ruspe e operai al lavoro a Santa Teresa, salotto buono della città, poi le operazioni si sposteranno anche nella zona orientale. Bonifica che si era resa necessaria vista la quantità di rifiuti che si erano depositate sulle spiagge cittadine. Si tratta però, avverte il sindaco Enzo Napoli, solo del primo passo. A partire dal mese di maggio infatti è stata programmata un'opera di bonifica ad ampio raggio che riguarda tutto il litorale. Interventi di manutenzione e bonifica curati per aprire di fatto la stagione estiva. Ora l'attenzione è puntata soprattutto sulla rimozione dei rifiuti portati arriva dalle mareggiate di questi mesi. Come vedete stiamo andando avanti in un modo ragionevole, nel senso che le mareggiate lasciano sui nostri litorali detriti e quant'altro. Insomma è una situazione che quindi va gestita con intelligenza. Se noi facciamo una pulizia con il mare grosso, dopo mezza giornata abbiamo la stessa condizione di prima. Quindi noi abbiamo provveduto a fare una pulizia per ora degli arenili di Santa Teresa e stiamo andando avanti. Dopo passeremo alla pulizia con le pale meccaniche e mezzi meccanici per fare una pulizia radicale e poi da giugno, da maggio, inizierà una cadenza che consentirà la tenuta degli arenili.